Stando agli ultimi dati Istat, sono più di 5 milioni gli stranieri residenti in Italia, appartenenti a circa 200 diverse nazionalità. Flussi importanti ai quali, nella maggior parte dei casi, vanno riconosciuti diritti e doveri. Il tema è al centro del convegno Lo straniero per il diritto e per la società, in programma nella giornata di oggi presso la Sala dei Baroni al maschio Angioino, alla presenza del sindaco Luigi De Magistris e dell'assessore al welfare Roberta Gaeta. Chi viene nella nostra città ha diritto ai diritti e deve adempiere a doveri e questo è un primo passaggio importante per creare delle comunità in cui ci sia l'uguaglianza. Poi non vogliamo più depositi di esseri umani, i cosiddetti CAS, dove la prefettura individua degli alberghi, in genere sempre negli stessi posti, pensiamo a Napoli soprattutto, Piazza Garibaldi, vengono spesi un sacco di soldi, messi in albergo e lasciati lì. Questi diventano poi delle situazioni anche complicate di tensioni sociali. Noi invece riteniamo che persone che arrivino non devono essere solo accolte nel momento dello sbarco, ma si deve lavorare qualora le persone ritengono di rimanere, ne hanno le condizioni per poterlo fare nei nostri territori in maniera integrata. In maniera integrata significa appunto con progetti di integrazione, attraverso soprattutto lo SPRAR e addirittura anche con l'impiego al lavoro. In questo ci sono risorse e siccome le risorse devono essere ben utilizzate, invece che utilizzarle per creare depositi di esseri umani, utilizziamoli per fare processi di integrazione in modo che si vive tutti quanti meglio nei diritti e nei doveri. Questo è un po' il progetto Napoli-Città-Rifugio sul quale abbiamo avuto anche l'apprezzamento forte del Ministro dell'Interno, dal Ministro dell'Interno e del Governo. Certo, se tutti i comuni d'Italia accogliessero, se l'Europa facesse quello che fanno alcune città italiane, non ci troveremmo nelle situazioni anche di tensioni che ci sono in diverse parti d'Europa e del nostro paese. Stiamo costruendo gli strumenti e una città dell'accoglienza. L'accoglienza passa attraverso i diritti e i diritti si costruiscono attraverso strumenti anche giuridici e amministrativi, anzi soprattutto giuridici e amministrativi. Non si tratta soltanto di accogliere flussi di migranti, ma di accogliere nel miglior modo possibile le comunità di migranti che vivono nel nostro territorio e che in qualche maniera contribuiscono anche allo sviluppo e alla crescita del nostro paese. Negare o dimenticare questi aspetti vuol dire in qualche maniera anche non riconoscere che loro invece hanno una parte fondamentale nella nostra società. È una parte fondamentale che non diminuirà nel tempo, ma anzi aumenterà sempre di più. Al dibattito hanno preso parte rappresentanti del mondo giuridico specializzati nel settore ed esperti dei servizi sociali. L'idea di questo convegno è di cercare di approcciare il tema sia prendendo spunto dai dati statistici attraverso la collaborazione con il Comune di Napoli, sia con l'esperienza di giuristi che sono particolarmente attenti alla materia che ci daranno oggi dei punti fermi attraverso i quali poter poi dare delle risposte reali agli stranieri che abbiano intenzione di muoversi economicamente nel territorio nazionale.